Grande successo per la serata delle Fonti Awards, tenutasi lo scorso mercoledì 20 novembre a Palazzo Mezzanotte. La serata è stata introdotta da un CEO Summit intitolato Mobilità Sostenibile e Community Engagement, per una maggiore attenzione al territorio e collettività, moderato dalla giornalista Deborah Rosciani. La cerimonia delle Fonti Awards ha dedicato particolare attenzione al mondo della mobilità e del public affairs, premiando le eccellenze del settore. Eccellenza dell'anno, Headhunting Tax Illegal. Il premio va alla Derky & Partners. Per la consolidata expertise, l'elevata specializzazione attraverso le quali oltre 20 anni ricerca e seleziona avvocati e fiscalisti per aziende e studi professionali. L'attitudine e l'approccio personalizzato uniti alla vostra gamma di servizi integrati fanno di la Derky & Partners un'eccellenza italiana nel settore Headhunting. Siete stati scelti a caso per 60 secondi di speech. Buonasera, grazie a tutti. Siamo davvero onorati di questo premio, un po' devo dire fuori categoria, nel senso che ci sentiamo un po' soli questa sera in mezzo a tutti i premiati degli studi legali. In realtà questo è il nostro mondo e io devo ringraziare i clienti che da tanti anni ci affidano ricerche importanti di loro collaboratori e naturalmente questo premio lo dedico ai nostri clienti, oltre che dividerlo con il mio socio, il dottor Gianrusso, e con tutto il nostro team senza il quale questo non sarebbe stato possibile. Vi ringrazio. Buonasera. Grazie a voi nazionalmente. Grazie a tutti. Grazie. Complimenti. A Elefanti Awards siamo in presenza di Simona Laderchi, socio fondatore di Laderchi & Partners. Buonasera. Buonasera. Ci parli un po' della storia e della tradizione di Laderchi & Partners. Laderchi & Partners è una società specializzata esclusivamente nella ricerca e selezione di professionisti nel settore legal and tax. La nostra tradizione nasce vent'anni fa sulla scorta della mia primissima esperienza lavorativa, quando da giovane ebbi la fortuna di poter collaborare con il primo cacciatore di teste italiano che decise di intraprendere l'attività di cacciatore di teste esclusivamente con specializzazione appunto nel settore legale e fiscale. Sono trascorsi vent'anni, il mio mentore purtroppo non è più tra noi, ho deciso di continuare la tradizione fondando appunto la nostra realtà Laderchi & Partners nel 2013. Ad oggi ormai possiamo dire che sulla scorta di questa tradizione abbiamo mantenuto la stessa modalità operativa e la stessa specializzazione. Quali sono le principali attività e modalità operative dello studio? Lo studio, ripeto, occupandosi esclusivamente di selezione di professionisti, adotta uno stile relazionale e personalizzato, nel senso che incontriamo personalmente non soltanto i clienti ma tutti i candidati. Infatti la nostra banca dati è costituita da molte candidature di grande spessore, di grandi standing, personale e professionale, incontrati tutti quanti personalmente da me e dal mio socio. Questo è ciò che ci caratterizza rispetto, diciamo, alla professione sempre più moderna che tende a privilegiare contatti telefonici o attraverso altri strumenti tecnologici. Noi continuiamo a preferire un approccio personalizzato perché riteniamo che sia il nostro valore aggiunto, la possibilità di vantare contatti con i nostri candidati che a volte si trasformano anche i clienti. Giovanissimi, candidati vent'anni fa, oggi sono nostri clienti. Quindi questo approccio personalizzato direi tele or made è ciò che caratterizza il nostro lavoro. Come si è evoluta la professione di headhunter nel settore legal e tax, proprio nell'era digitale? Posso dire che da quando iniziò la mia professione vent'anni fa ho avuto modo di vedere evolvere l'interpretazione proprio del ruolo di cacciatore di teste, soprattutto grazie naturalmente anche alle nuove possibilità che la tecnologia offre. Come dicevo prima, la tentazione è quella naturalmente di poter, per ottimizzare i tempi, usufruire nella maniera più proficua possibile di tutto ciò che la tecnologia ci fornisce, quindi quello che può essere una video call o tutti gli strumenti appunto che potremmo utilizzare, che la modernità ci offre, riteniamo che siano assolutamente utili proprio in un'ottica di ottimizzazione del tempo. Tuttavia riteniamo opportuno mantenere salda, mi ripeto, la tradizione rispetto a un approccio assolutamente personale che posso garantire è ciò che i nostri clienti e candidati maggiormente apprezzano. Mi riferisco in particolare al tema della riservatezza, sulla quale mi permetto di spendere due parole. posso dire che ciò che ci viene maggiormente riconosciuto sia da clienti che da candidati è il rispetto assoluto e scrupoloso della riservatezza in qualsiasi fase della selezione, sia sul fronte cliente, a cui naturalmente non possiamo che garantire la riservatezza, qualora la desideri naturalmente, ma soprattutto sul fronte del candidato, perché il candidato sa di potersi fidare, sa che la sua candidatura non uscirà in alcuna maniera dai nostri archivi se non per sua esplicita autorizzazione. Questo, devo dire, può sembrare un elemento quasi scontato, ma non lo è. Per tornare al discorso precedente, laddove la nuova tecnologia consente con una rapidità infinita di poter trasmettere semplicemente con un click un curriculum ovunque. Questo crea a cascata delle difficoltà incredibili, laddove soprattutto il nostro settore, essendo ridotto, necessariamente ridotto e legato a stretto filo, anche a conoscenze personali, può creare davvero difficoltà di ogni genere, da un semplicissimo imbarazzo, anche a rischio di trovarsi in difficoltà nella propria professione. Quindi mi sento di dire che ciò che ci caratterizza oggi come cacciatore di testi, sicuramente moderni, è un approccio tradizionale, sempre nell'ottica del rispetto massimo per la persona, prima che per il professionista.